Francavilla è indubbiamente una squadra importante, una squadra che ha il quinto posto con 25 punti, se non fosse una squadra con qualità importanti non sarebbe lì. È normale che noi in questo momento qui dobbiamo cercare di guardare il meno possibile alla squadra che affrontiamo, ma entrare in campo soltanto col pensiero fisso nostro, del nostro momento, continuare con l'atteggiamento che abbiamo avuto a Rende perché purtroppo sia con Rende che con la Sicula Leonzio l'atteggiamento è stato giusto ma poi se le occasioni non vanno a tuo favore parli di partite diverse. Noi dobbiamo continuare con quell'atteggiamento, io sono più che fiducioso come tutti gli altri compagni di squadra che questo atteggiamento porterà a qualcosa di positivo e quindi dobbiamo soltanto continuare così.